Il Codice Rosa è un percorso che inizia appunto nel pronto soccorso come assegnazione di un codice di priorità dato alle persone che riferiscono situazioni di maltrattamento e di violenza, persone che per afferire come Codice Rosa sono considerate di una categoria, brutto dirlo, ma fragili. Sono in tutto 147 gli accessi registrati per Codice Rosa d'Arezzo nell'ultimo anno, 162 riguardano adulti, 12 minori ed un caso la vittima era un anziano. Nel 2015 il numero totale di casi presi in carico erano stati invece 147. Parlare di un aumento proprio dei casi di aggressività, di maltrattamento direi che è improprio. Penso e la nostra percezione è che siano aumentate le persone disposte a raccontarceli e quindi persone che riferiscono questi casi. Si tratta di maltrattamenti ma in rari casi le vittime parlano anche di storie di stalking e addirittura abusi sessuali. La maggior parte delle persone maltrattate sono donne, spesso appunto nell'ambito, il Codice Rosa è perché avviene nell'ambito delle mura domestiche da compagni, ex compagni. Le fasce di età sono quelle centrali, direi da 25 anni fino ai 45-50 anni, sono sicuramente fanno l'80% dei nostri casi. Le straniere continuano ad essere una grossa fetta, non raggiungono solo circa il 30%, però se pensiamo che la comunità di stranieri presenti ad Arezzo ovviamente è una percentuale bassa, proporzionalmente sono molto rappresentate. Però nel Codice Rosa vi afferiscono anche ovviamente persone disabili, persone, i piccoli, i nostri minori sono Codice Rosa. Stanno aumentando anche negli anziani, gli anziani sono persone fragili, soprattutto nelle ultime fasi della vita e possono diventare vittime di chi invece se ne dovrebbe occupare, i badanti o i caregiver, insomma le persone che sono nel normale accudimento. Devo dire una cosa tragica è che vediamo anche nel nostro piccolo che ci sono reingressi di queste donne anche due o tre volte, quindi tanto si deve lavorare perché la rete, ma la rete fuori dal pronto soccorso sia in grado di aiutarle in modo efficace, di metterle in protezione, di interrompere anche legami laddove la donna è intenzionata anche a chiedere una separazione, un allontanamento. Le donne ci dicono ma perché non allontanate, non sono io che devo andare in casa sicura, dovete allontanare l'uomo aggressivo.